Abbiamo raccontato in questi mesi una nuova città, una nuova città che verrà come l'abbiamo chiamata e poi a seguito anche dell'apparentamento con la lista civica futura di Francesca Crespini la futura città che verrà in cui abbiamo raccontato la nostra idea nuova di sanità dove vogliamo impegnarci per garantire la tutela dell'ospedale di Urbino e la tutela dei servizi sanitari territoriali insieme ai comuni del circondario. Abbiamo raccontato che vorremmo lavorare per i nostri giovani, i giovani che da Urbino purtroppo in questi anni tanti se ne sono andati, noi invece vorremmo che rimangano, che possano costruire qui il loro progetto di vita e di lavoro che possano avere nuove opportunità, ovviamente in collaborazione con l'università che è il primo partner strategico della città e abbiamo raccontato anche come vorremmo implementare il secondo motore della città di Urbino che è il turismo con tutte le attività culturali, la collaborazione con gli enti di formazione, con gli enti della cultura creare maggiore iniziative con il progetto 52 settimane e 52 eventi affinché la città di Urbino sia continuamente vivace, continuamente visitata, apprezzata ovviamente da turisti a livello nazionale e internazionale questo anche per poter far sì che possano nascere anche nuove attività lavorative Urbino in questi mesi è stato anche teatro di iniziative insieme a degli ospiti importanti abbiamo avuto proprio questi giorni Bersani, abbiamo avuto il sindaco di Firenze, il sindaco di Bologna collaborazioni con naturalmente tanti amministratori locali del territorio sia nella parte verso la Val Foglia con Pesaro e Vallefoglia per le nuove infrastrutture che vorremmo realizzare che anche verso la Val Metauro con i comuni del circondario per la tutela della sanità, dei servizi pubblici e i collegamenti l'augurio è di poter lavorare insieme a Pesaro e Vallefoglia e a tutti gli altri comuni per poter sistemare, per poter migliorare le infrastrutture del territorio noi abbiamo parlato proprio di questa strada specifica Urbino-Pesaro io oggi per arrivare qua ci ho messo quasi un'ora per dire e invece c'è un progetto del 2012 per riprendere quel progetto significa poter chiedere all'ANAS che oggi è la proprietaria, diciamo, alla pertinenza di questa strada le risorse per poter migliorare questo tratto in particolare la Trasanni-Morciola perché poi si collega con le Monte Labattese che consentirebbe di accorciare notevolmente il tragitto tra Urbino e Pesaro questo serve ovviamente all'università, agli studenti, alle famiglie, alle imprese serve a tutti, quindi è una cosa che noi dobbiamo per forza fare e parlare oggi della provincia di Urbino e quando invece abbiamo bisogno di collaborare con Pesaro, Vallefoglia e tutti i comuni è semplicemente anacronistico Qual è invece la risposta che darà eventualmente Scaramucci in caso di elezioni nei primi 100 giorni, lo sprint dei 100 giorni al sindaco? Sì, noi chiederemo, appunto per poter creare la squadra dell'amministrazione chiederemo di fornire una rosa di nomi uomini e donne per poter con competenza ricoprire determinati ruoli poi ovviamente la scelta aspetta il sindaco perché questo lo prevede la legge però ci sarà una condivisione rispetto anche alle competenze tante competenze che abbiamo coinvolto nella nostra grande squadra nel nostro grande gruppo io voglio rassicurare i cittadini che dalla prossima settimana noi siamo pronti per poter amministrare questa città voglio dirlo soprattutto a giovani e ai nonni che sono le due categorie che in qualche modo possono promuovere sempre il cambiamento quando arriva un'amministrazione nuova deve completare i progetti che ci sono e deve anche proseguire per fare meglio quello che aspetta la città di Urbino grazie a tutti